Musica Rieccoci e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Questa è la situazione generale per giovedì 1 marzo. L'alta pressione delle azzorre tende ora ad interessare più direttamente anche il sud-est. Ancora un po' di nubi sparsi al mattino, specie sulla Lucania, in progressivo dissolvimento nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni entrosera. Ed ora diamo un'occhiata alle previsioni per la Puglia. In Puglia, sulle coste, tempo soleggiato con poche nubi al mattino e bel tempo con cieli sereni al pomeriggio. In pianura, nubi sparsi al mattino che si diraderanno nella seconda parte della giornata. E spazio ora la situazione per Basilicata e Molise. In Basilicata, al mattino, tempo soleggiato ma con nubi sparse. Alternate a schierite in montagna. Ancora nubi al pomeriggio, più fitte sulle zone più alte. In Molise, al mattino, schierite alternate a nubi sparse. Tempo soleggiato con poche nubi al pomeriggio. Infine, prima di salutarci, la situazione di temperature, venti e mari. Temperature in lieve calo nei minimi, stabili o in lieve ascesa ai massimi. Venti a tratti ancora sostenuti di tramontana in attenuazione serale. Mari mossi o molto mossi, con moto ondoso in calo. E per ora è tutto con le nostre previsioni. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio in compagnia di programmi di Antena Sud. Buon proseguimento. Buon proseguimento.